Salve amici di Urban Week, questa settimana. Buonasera amici di Urban Week stasera. Ciao a tutti, benvenuti alla prima puntata di Urban Week. Le località e posti più fashion di tutta la Sicilia. I quattro pezzi più che il calde sul siena urbanweek.it. C'è di Urban Week. Questo è quello spazio black. Grazie Danilo per la linea, è arrivato il momento di intervistare colui il quale. Grazie.